Pace fatta tra Ignazio e Cecilia, passano il San Valentino alle terme e sono felicissimi. Allora Donna Cecilia. Come Donna Cecilia? Che è successo? Donna Cecilia, bello va? Cosa vuoi fare adesso? Un passaggio. Che vita è la tua? Qua sembra di essere in campagna invece che in montagna, però un po' di neve c'è lassù, in cima. Eccomi qua, buon dia a tutti. Come potete vedere sono già con l'accapatoio e vi volevo raccontare che qui a Cuciterme naturalmente trovate l'accapatoio dentro la vostra stanza. E potete una volta che lo indossate scendere direttamente e raggiungere la spa. Ecco, è concesso anche di fare la colazione con l'accapatoio, molto ma molto comodo. Noi ovviamente avendo i cani abbiamo scelto di prima fare un giretto con loro, poi fare una bellissima colazione e adesso è arrivato il mio momento. Faccio un bellissimo massaggino e poi raggiungerò direttamente la spa, che non vedo l'ora. Cecilia aveva detto ci dovevamo fare gli affari nostri, perché sono cose loro intime, ma continuano a postare il tutto sui social. Brava Cecilia! Grazie! 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 Grazie!